C'è ragazzi bentornati sul mio canale YouTube, ebbene è passato solamente un giorno dal video nel quale abbiamo analizzato assieme quella che era la situazione attuale del gameplay di FC 25 e sembra essere già arrivata una prima risposta da EA Sports che di fatti andrà a rilasciare a brevissimo una nuova patch, una nuova patch molto grossa e che va a toccare tutti quanti o comunque tanti degli aspetti dei quali ci siamo lamentati, quindi mettetevi comodi che ora andiamo a analizzare subito assieme. Eccoci su Trello, piattaforma dove escono sempre in anteprima le notizie relativi agli aggiornamenti di casa EA Sports e possiamo già leggere che nel disclaimer c'è detto che questo aggiornamento arriverà per PS4 e Xbox vecchie, ma ovviamente si tratta semplicemente di una pre-release che va poi a anticipare il rilascio che arriverà successivamente su Next Gen qualora non ci siano problemi, quindi questo aggiornamento arriverà anche su PS5 e PC. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio di che cosa si tratta, partendo chiaramente dal gameplay che è quello che ci importa, ci sono novità molto importanti, a partire dalla riduzione della precisione per quelli che sono i passaggi filtranti di prima alti, soprattutto quelli fatti con angoli estremi, sto parlando di quelli col corpo tutto storto, di spalle, eccetera. E in più viene detto che questa modifica verrà riscontrata in maniera maggiore sui giocatori con alte statistiche di passaggio, quindi questo per andare ad impattare tutte le categorie di giocatori e non solo quelle che magari erano appunto di giocatori che quei passaggi non avrebbero proprio dovuto farli. No, anche i giocatori, ad esempio col playstyle, eccetera, verranno impattati da questo cambiamento. Quindi occhio ai vostri giocatori. Per quanto riguarda il secondo punto, anche questo molto importante, ampiamente ridotta, la precisione delle trivele. E qui va aperto però un capitolo a parte, perché non viene specificato se questo andrà ad impattare i giocatori che hanno il playstyle sia bianco che plus della trivela, e inoltre bisognerà andare poi a verificare se comunque si potrà fare col magheggio dell'anno scorso una trivela di qualità anche con il playstyle del tiro a giro plus o del tiro a giro bianco. Quindi questo ci lascia un punto interrogativo, perché diciamo che sulla carta è una buona cosa, ma poi bisogna vedere la reale applicazione, oltre che se poi non andiamo a mettere delle opzioni per segnare, se togliamo anche le trivele le partite finiscono veramente 0-0. Quindi bene però da approfondire. Inoltre viene detto che poi viene aumentata in maniera importante l'ampiezza delle difese a 5. Questo vuol dire che in teoria, trovando difese a 5 contro, adesso non dovremmo più andarci a scagliare contro queste muraglie incredibili di CPU, ma qualche varco dovrebbero concederlo soprattutto se il giocatore avversario non è bravo a switchare. Anche qua bisogna vedere però quando becchiamo quelli bravi che comunque un minimo vanno a switchare la linea difensiva, se loro riescono a sopperire a questo cambiamento. Ridotta la precisione dei driven pass. E qua, perdonatemi di innervosirmi in secondino, perché questa proprio non l'ho capita. In un gioco dove i passaggi già sono pessimi e il driven pass era praticamente una delle uniche opzioni safe di passaggio. Andare a ridurne la precisione sinceramente mi sembra un autogall pazzesco. Quindi anche qua da andare bene a vedere effettivamente questa modifica, poi se andrà ad impattare anche i giocatori con il playstyle, però questa proprio veramente mi fa storcere il naso, è il primo punto che mi fa storcere il naso. Passiamo adesso a tutta una serie di decision making della CPU che viene toccato. Infatti sto parlando innanzitutto dell'aumento della frequenza di inserimento da parte dei giocatori applicando i seguenti ruoli e sto parlando di attaccante ombra, inside forward su offensivo e svaria, wide playmaker offensivo e wingbacks, i scenari dove c'è spazio davanti a questi giocatori, quindi dovrebbero cercare di aggredire effettivamente gli spazi dando maggiori opzioni di passaggio ai nostri giocatori anche se non li andiamo a controllare questo bene perché c'era un immobilismo totale in attacco, infatti si usava tantissimo il player lock. migliorata ulteriormente anche il decision making della CPU quando si vanno a performare delle diagonali all'interno di spazi ancora una volta aperti quando si va a creare un varco all'interno della difesa, anche qui molto bene visto che onestamente un altro dei problemi giganti era proprio questo qui. Andando avanti poi ci viene detto che migliorata la precisione di tiri presi in situazioni dove il giocatore non era pressato o comunque aveva una chiara visuale su quella che è la porta, incluse situazioni di uno contro uno o di porta sguarnita, anche qui direi abbastanza bene. Migliorata l'intelligenza artificiale del difensore centrale che cercherà di smarcarsi meglio per favorire un passaggio in fase di impostazione, quindi quando magari si è marcato il difensore cercherà di venire un po' più incontro liberandosi da quella che è una eventuale zona pericolosa, quindi questo ci favorisce un po' la fase di uscita e va a sopperire al problema dei passaggi che sono pessimi. Migliorata la capacità dei giocatori di riconoscere quando si trovano in fuorigioco, quante volte vi ritrovavate con giocatori molto forti, anche vari in Bappé, Son, dormire e riprendersi dei fuorigiochi che non esistevano né in cielo né in terra, ridotta la velocità di alcune animazioni delle scivolate, ci può stare, aumentata leggermente la precisione delle spazzate e inoltre, questo per chi gioca offline, ridotta la velocità dei passaggi e dei passaggi filtranti in condizioni di tempo e di campo bagnato. Successivamente poi abbiamo tutta una serie di modifiche ulteriori, sempre per quanto riguarda il gameplay, che però riguardano principalmente cose di stabilità oppure sempre animazioni che determinavano movimenti impropri della CPU. Ad esempio, durante alcuni tiri dalla distanza e calci d'angolo, i portieri si andavano a girare dalla parte opposta rispetto a quella del pallone. In alcuni casi, i difensori, stessa cosa, potevano girarsi all'altra parte invece di provare ad intercettare un passaggio. Qui, per esempio, ci viene detto che ancora una volta i giocatori che giocavano sulla fascia a destra e venivano giocati con l'inside forward non si posizionavano nella zona nella quale avremmo voluto. Viene migliorata quella che è la capacità dell'arbitro di decidere quando chiamare un fallo, soprattutto per quanto riguarda il calcio di rigore. Durante una partita, le mezze ali non vanno a cambiare lato quando vengono invertite con il giocatore opposto nella nostra squadra. Quindi, se per esempio abbiamo due mezze ali e vogliamo mettere una a destra e una a sinistra e viceversa, durante la partita non lo potevamo fare. Alcune volte viene detto che si poteva perdere troppo facilmente il pallone quando avveniva un contatto durante una skill. In alcuni scenari i portieri andavano a dare un pugno al pallone piuttosto che provare a bloccarlo quando appunto avrebbero potuto farlo. Alcuni passaggi avevano come risultato la palla che andava troppo veloce rispetto a quanto richiesto. La CPU andava a ignorare alcune delle skill senza andarle a performare. Penso ad esempio alla suola fatta di prima. Quando si rimane in controllo del pallone dopo un tackle fatto da un difensore, spesso e volentieri un lob pass prima di essere eseguito veniva preso più tempo rispetto a quello che dovrebbe essere richiesto. Alcuni passaggi potevano essere più precisi di quello che si era richiesto. Vengono migliorate alcune animazioni quando si vanno a fare passaggi corti. In alcuni scenari molto rari si andava a perdere il controllo del pallone che andava a ricevere il passaggio. Durante le punizioni c'era una incorretta animazione del giocatore sul pallone che si verificava in rari casi. I portieri che si potevano tuffare da tutt'altra parte quando si facevano dei tentativi di parata. In alcune situazioni di dribbling l'intelligenza artificiale non andava a cercare di fare un contrasto se stavamo noi controllando il giocatore. In alcuni rari casi i portieri rimanevano attaccati col piede contro il palo. Questa sicuramente l'avete vista. In alcune situazioni animazioni di spazzate automatiche venivano causate anche quando la palla si ritrovava sulla linea andando a causare poi degli autogall. Lo abbiamo visto anche durante le qualifiche. Poi ci sono alcune cose che riguardano rush come ad esempio il portiere che durante i rigori poteva essere mosso e rimaneva fermo. Durante i corner i giocatori si posizionavano male e si continuavano a riaggiustare finché il calcio d'angolo non veniva abbattuto. Durante i calci di rigore i giocatori fuori dall'area di rigore spesso non facevano le corrette animazioni di attesa della battuta. In alcuni casi i difensori che andavano per terra andavano ad applicare una pressione sul portatore di palla nonostante fossero a terra. Alcune volte non veniva preso correttamente lo switch dei giocatori e in più alcune volte i giocatori quando c'era una posizione, quando andavamo appunto a creare uno schema per poterli debattere in alcuni scenari veniva ignorata quella che era la distanza minima che dovrebbero mantenere tra di loro. Quindi questa è tutta una serie di cose di stabilità alle quali poi si vanno ad aggiungere tutta una serie di ulteriori modifiche fatte per quanto riguarda l'Ultimate Team sui attributi che non si vedevano durante le evoluzioni eccetera eccetera. Poi vi lascio il link qua sotto, queste magari ve le andate a leggere. Ovviamente cose che riguardano anche club, carriera e update generali ma onestamente quello che a noi ovviamente interessa tantissimo è il gameplay e della maggior parte delle cose ovviamente sono contento, chiamatemi scassamaroni o perfezionista però sinceramente mi aspettavo anche dell'altro, mi aspettavo che le skill magari fossero un pelo meglio, che veniva migliorata l'agilità palla al piede dei giocatori, mi aspettavo magari un pizzico di boost su doppio passo, mi aspettavo che la velocità dei giocatori effettivamente fosse reale rispetto a quella che dovrebbe essere perché se ho un Bappé 97 di velocità non me lo può recuperare Pavard base ma non me lo dovrebbe poter recuperare nessuno se sta in campo aperto, ma questo non solo un Bappé ma anche una degli Amy If banalmente. Quindi prendo questa patch come un buon inizio, un buon riavvicinarsi a quello che può essere un gameplay soddisfacente, la andremo a testare e vediamo effettivamente che cosa accadrà. Quindi raga, anche per questo video come al solito è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo aggiornamento, se effettivamente siete contenti di quello che sta per arrivare che poi ovviamente andrà testato, lo testeremo e andremo a fare una bella patch review con il gameplay nuovo quando uscirà, a me non resta altro che ricordarvi poi che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola per parlare di questo ed altro e vi auguro una buona giornata e a presto dal vostro Riberoski, ciao!